Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emiliato Mediobamano. L'ambiente smaglia in testa a tre. I tre, i tre, i cinque, i cinque, i tre in Italia, e le ore 17.29 per Reggio di Calabria Centrale, e in tantezza dal binario 1, invece che dal binario 4. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Firenze, Santa Maria, Bologna, Centrale, Reggio Emiliano, Mediabalana. L'ambiente sbaglia in testa a tre. Firenze, Santa Maria, Bologna, Centrale, Reggio Emiliano, Mediabalana. Firenze, Santa Maria, Bologna, Centrale, Reggio Emiliano, Mediabalana.